ciao a tutte e ciao a tutti benvenuti una nuova puntata di Tintoria l'ospite di questa puntata è Emanuela Fanelli ciao a tutti ciao un gran piacere il piacere è tutto mio che finalmente riusciamo a registrare questa cosa poi riusciamo tu hai invitato sei venuta ce l'abbiamo fatta bene bene sono molto alto a testa di qua anche per questa puntata abbiamo confermato la co conduzione di Stefano Rapone ciao ciao che è qui per darci una mano per fluidificare la conversazione perché poi lui questo è una sorta di lubrificante un fluidificatore esatto un fluidificatore linguistico ti mette ti mette la sciolina alla lingua allora che ti è uscito ammazza che scola hai fatto lo metto sul curriculum il liceo classico Domenico Cotugno dell'Aquila l'abbiamo fatto io e Bruno Vespa per dire eh Domenico Modugno Cotugno io pure ho capito Modugno no 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 fate poca eronia no 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 si poteva chiamare Sallustio il liceo classico dell'Aquila invece si chiama Domenico Cotugno che credo fosse un medico che durante la seconda guerra mondiale ha fatto qualcosa ma di di very local ma che essenzialmente sono sempre scambiato per cantante di volare sì questa forse era la vita sì pure parente di toto pure parente di toto dei toto di tutti i toto dei toto in toto oh questa puntata è partita bene allora io inizio ogni puntata raccontando al pubblico che sta qua già con le orecchie no sguainate ma dove l'avrà conosciuto Emanuele D'Afanelli e visca sulla nagnina diciamolo diciamolo subito lei faceva la croupier esatto e io mi giocavo la pensione la croupier di briscola poi non serve la croupier esatto e io mi giocavo la pensione di nonna rapone sparava no dico sempre dove dove ho conosciuto l'ospite allora dove ci siamo conosciuti noi a una cena da giovanni ben in casa oppure direttamente a fiano romano temo e anzi in realtà sono molto contenta a fiano romano nella hall dell'albergo nella hall dell'albergo di fiano romano come fossimo tu un camionista e io una prostituta esatto insomma così era frequentato che poi comunque sì ma non in quel momento in quel momento eravamo stati chiamati per altro sì esatto eravamo stati chiamati perché era che stefano vuole raccontare che cos'era quel meeting a fiano romano io ti ho conosciuto prima in realtà forse al bar prima di andare a fiano romano perché poi siamo preso a termini esatto a termini di fronte a dove sono i senza tetto diciamo esatto che salutiamo che salutiamo tutti però era sempre per andare a fiano romano per andare a fiano romano era lo stesso giorno perché era diciamo il ritiro pre battute sì eravamo tutti noi c'era anche chi c'era tutti quelli di battuta eravamo quasi tutti non c'era guia non c'era guia che era in albania questo fa ride perché a me fa ride l'albania sono cresciuta in abruzzo quindi infatti la gente che è subito gag la gente si è in albania ma non era meglio il contrario sei quasi così esatto esattamente però c'erano quasi tutti c'era l'ipari c'era l'ipari che salutiamo salutiamo il compleanno ieri o l'altro ieri ah sì tanti auguri l'ipari insomma ma poi persone portate in un posto senza sapere bene perché in un hotel a provare a fare battute senza che ci fosse in realtà il concept cioè c'era un po' un'idea di battute ma non sapevamo bene cosa no zero niente soprattutto l'invito andiamo a fiano a me giovanni ben in casa l'autore autore di battute e anche di una pezza di lundini anche di una pezza di lundini molto presente nella tua vita negli ultimi due anni esatto mi aveva detto al bar senti vuoi fare questo programma potresti venire pure tu dopo domani andiamo a fiano romano due giorni tu con 15 persone che sembra sia l'inizio di un romanzo di agata cristi se vogliamo che anche un filmetto zozzo amatoriale di una volta poteva finire in entrambi i modi no però no però invece è finita invece no finita bene cioè comunque finita è finita in televisione finita in televisione o non so se sul secondo canale esatto con battute tanto tanto rimpianta da tanto rimpianto il programma battute da il mondo di twitter finché poi non è arrivato una pezza di lundini a colmare quel vuoto e a lasciare noi altri di battute in mezzo a una via diciamolo in mezzo a una strada stradicciola quelle quelle medievali che da sopra ti tirano le secchiate le bagnarone esatto lì sta tutto il casta di battute tranne voi due io ho dovuto subbligare per avere quella striscia panelli tra l'altro fammi lavorare concedimi uno spicchio però prima di parlare una pezza di lundini io in realtà sono molto sei la prima attrice che viene adesso non vorrei dire cazzate sicuro sbagliato no vabbè però secondo me sei la prima attrice su 35 puntate già non mi ricordo che viene a tintoria quindi finalmente voglio fare una domanda voglio parlare una cosa allora tu fai l'attrice che io lo dico questo secondo me è il lavoro peggiore che uno possa fare nella vita cioè nel senso no sicuramente no scavare in miniera la ricerca dell'amianto forse è peggio però nel mondo dello spettacolo fare l'attrice è l'unico lavoro peggio di fare l'attore perché comunque sia in generale fare l'attore l'attrice è un lavoro almeno questa è la mia impressione comunque sia è un lavoro dove tu aspetti di essere chiamata cioè nel senso è un po passivo cioè nel senso ci sono persone che devono vedere qualcosa di tuo devono pensare che sei che sei brava e che va bene per qualcosa e quindi tu stai a casa ad aspettare che squilli il telefono o insomma se nel 2020 che ti arrivi una mail quanto è quanto è greve fare l'attrice greve nel senso quanto è pesante quanto ti sembra di non avere il controllo di quello che fai cioè di stare un po aspettando gli altri perché rispetto tipo alla stand up comedy noi comunque sia andiamo nei locali la gente ride scrivi le cose vai ci abbiamo una serie di lavoretti che facciamo costantemente mentre invece la mia impressione almeno è che facendo l'attrice stai là e aspetti che succede qualcosa guarda questa domanda è molto intelligente mi stupisce anche forse l'hai trovata su un blog l'ho trovata su donna glamour cosa chiedere alle attrici no in realtà è vero è una cosa orribile dipende anche come sei tu e come la vivi io per come sono io malissimo nel senso che non non sopporto l'idea che il mio lavoro non dipenda molto anche da me cioè quindi l'idea di stare a casa poi tante volte non sei giusta per per un ruolo perché che ne so quello se l'era immaginata mora ma vabbè ha detto una sciocchezza però per cose che non dipendono da te però ogni volta ai provini quando uno ti dice no per quanto tu sei hai fatto tutto il lavoro su te stessa un po ti prende la vocetta che dice non sono adatta non sono brava non sono idonea queste cose qua e infatti per ovviare a questa cosa c'è pure da dire che io ho iniziato a fare l'attrice facevo teatro e posso dire se vede e si vede vieni dal teatro io vengo dal teatro e a scuola proprio cioè tipo il laboratorio al liceo perché al liceo mio il cicerone di frascati dico pure io qual è frequentato da me a scanio celestini e che spettacolo e lì chi faceva il laboratorio teatrale era uno dei fighetti di scuola stranamente non era il soggetto quindi a me piaceva ero pure invogliata dal fatto che potessi essere una dei fighetti e poi da lì il regista mi ha chiesto di fare gli spettacoli con la sua compagnia di attori veri che facevano questi spettacoli molto seri bravissimi anche matinee per le scuole ai castelli e cose così poi ho iniziato a fare insomma ti vedono fai un'altra cosa con un'altra compagnia quindi l'ho fatto molto cioè ho imparato molto facendolo più che da una scuola importante dopodiché io ho fatto per dieci anni fino all'anno scorso la maestra in una scuola materna sì che salutiamo che salutiamo club dei ragazzi di piazza bologna una scuola bellissima e fare questo lavoro mi aiutava proprio per quei momenti là che dici te in cui non ti chiamano squilla c'è un lavoro vero che mi piaceva moltissimo un lavoro splendido e quello mi aiutava però dentro di io non pensavo sinceramente di fare l'attrice cioè non è che andavo a cercare l'agenzia perché sinceramente non pensavo che il mondo dello spettacolo avesse bisogno di me ma lo penso tuttora non per finta modestia però siamo una marea c'è un sacco di gente pensavo vabbè che è invece tipo filmetto americano per deficienti insomma di terza categoria federica remotti che salutiamo che salutiamo mi ha visto con i miei amici di pedigree noi facciamo questa jam session teatrale leggevamo cose nostre c'era la musica però cose nostre anche che ne so un racconto di buzzati alla strada centro sociale la strada garbatella lei mi ha visto ha voluto vedere delle cose mie mi ha preso in agenzia e ha iniziato a fare i provini e da lì è partita quella cosa che dici te però facendo la maestra era un po attenuata tutta la parte frustrante perché comunque io il lavoro un lavoro ce l'avevo e non solo per pagare l'affitto comunque quello è importante nel senso se non c'hai le spalle parate no stai male fisicamente però anche dal punto di vista emotivo stare tutti i giorni e dire oggi non faccio niente perché il mio lavoro prevede anche che io stia ferma molto io non so proprio adatta caratterialmente e fare la maestra mi ha aiutato da quando ho smesso di fare la maestra perché non era più tanto conciliabile per fortuna ho lavorato però adesso che sto lavorando e ho lavorato tanto ce l'ho all'ansia dell'horror vacui che arriverà a breve perché anche posso stare cioè non si lavora così tanto e così spesso e io quell'ansietta lì di dire oggi il mio lavoro prevede che io stia ferma due mesi è pesante perché non sono capace e vabbè che però mi sa che invece fa parte proprio del gioco dover stare due mesi ferma anzi prenotati una bella vacanza con tutti i soldi che avrai fatto fanelli esatto ma fatti un giro intorno al mondo e forse dovrei cambiare anche io atteggiamento perché se io sto a casa a scrivere comunque mi piace un sacco è fighissimo ma io non penso sto lavorando invece se inizio a pensare vabbè io oggi ho lavorato perché ho scritto forse la vivo meglio guarda se riesci a scrivere complimenti io per esempio io non scrivo io scrivo solo quando sto lavorando cioè scrivo solo quando non ho tempo di scrivere tipo c'è la serata tra un'ora per dio lo so invece adesso tipo questi mesi ho scritto cinque battute fanno ridere quante vediamo vediamo ma tu fai che scrivi le battute o scrivi il discorso io scrivo spunti tipo questa cosa fa ridere poi però bisogna provarla sul palco per vedere in che modo fa ridere però c'è scrivo un'idea che mi fa ridere e poi la sviluppo però se uno entrasse nell'ottica anche quello il lavoro è che è difficile perché secondo me se vieni pure da una famiglia senza cose di grado sociale però una famiglia normale di gente che ha sempre lavorato io che sto a casa a oggi lavoro e sto lì a scrivere sì 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 le cazzatelle mie come le definisco io non mi sembra che io stia lavorando però in realtà è anche quello sì no in realtà quello è la parte più importante del lavoro il famoso allenamento come diceva Kobe Bryant giochi come ti alleni se ti alleni bene giochi bene resti in peace Kobe Bryant mamba mentali ma io forse solamente la prospettiva di averci poi una c'è un posto in cui puoi farle quelle cose cioè se le fai e basta così magari c'hai questo atteggiamento che dici vabbè lo sto scrivendo ma per chi se tu sai che c'hai un che ne so questo e poi ci farei uno spettacolo magari sulle cose che stai scrivendo magari allora lo vivi più come come un questo lo pensavo anche io in realtà poi mi è successo che per esempio nella pezza di Lundini faccio delle cose che avevo scritto per altre situazioni che non ho fatto o cose che avevo scritto così e le ho ritirate fuori quindi può succedere però ecco se non mi avessero chiamato a fare una pezza di Lundini rimanevano nel computer non è che senti invece un'altra domanda quando nei periodi in cui si sta fermi da attori e attrici c'è un modo per allenarsi cioè oppure che ne so tipo mo per quattro mesi non fai niente facciamo le corna guardate ah però poi sarebbe andrebbe pure bene se fossero solo quattro mesi però c'è 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 un modo per tenersi cioè nel senso vabbè ma magari adesso col 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 coronavirus no però idealmente uno poi continua a fare dopo che inizia a lavorare a fare anche il famoso cinema poi c'è tipo avresti continuato a fare le serate tipo pedigree continui a fare quella roba all'appe lo continuo a fare sempre e lo continuo a fare solo per divertimento o cioè perché ti piace farlo o anche perché ti serve tenere allenato comunque sia a salire guarda tutte e due comunque fare pedigree è una volta al mese e io so che vado sul palco in più provo delle cose che scrivo io vedo come reagiscono le persone e poi in momenti capitano dei momenti in cui magari stai facendo che non so una cosa al cinema che non è che ti rende proprio contenta in realtà fare una cosa tipo pedigree è ah ecco perché io la faccio questo lavoro è questo quello che mi piace ma io diciamo sono stata anche abbastanza fortunata un po' pure per scelta proprio cose che non mi posso guardare o progetti che proprio dico mamma mia manca li cani non li ho fatti ma perché non li ho voluti neanche fare io perché dentro di me che è stato anche un discorso un po' difficile da spiegare all'agenzia magari no adesso sono splendide però di solito non è così il discorso è tu fai l'attrice lavori è lavoro qualsiasi cosa è lavoro però siccome per me io non riesco proprio a considerarlo ancora lavoro ma non perché non fatichi ma perché è una cosa è la passione della mia vita una cosa per cui pagherei io cosa che non devono sapere no non diciamo questa la laio questa la laio ci monto sopra rapone che fa cosa per cui voglio un botto d'esordi esatto che tanto la voce è simile siamo lì non si capisce quindi io che ne so quando magari mi sono state proposte delle cose che sono carine e oneste però che non mi somigliano che io non guarderei e ho detto di no perché veramente io preferivo stare a scuola con i bambini ma non perché so figa ma perché lo so io è come che ne so quando ti metti con uno e non lo ami no allora la forma è che bella l'amore però la sostanza no meglio soli no preferivo fare un lavoro che mi piaceva che magari non era proprio il sogno della mia vita ma mi piaceva molto piuttosto che il sogno della mia vita fatto non come volevo io o che comunque non mi rendesse felice e quindi insomma questo essenzialmente è stata un po' sempre la strada la domanda era aspetta che mi so perdono se continui a fare le serate per allenarti no sì in realtà la cosa dicevi dell'allenamento se io fossi l'attrice vera perché in realtà io sono un po' una peracottara nella categoria nel senso che uno ti dovrebbe dire si fanno dei workshop ok e ti alleni solo che a me quando l'ho fatto una volta un paio di volte mi viene un po' da ridere per le situazioni perché ci stanno per esempio questa ho fatto vabbè mi sa che non posso dire il nome comunque è una famosa americana che viene ogni tanto e tutti corrono che ha scritto questo libro su un metodo di recitazione che è anche interessante insomma però sono quelle situazioni in cui stai con tutta questa gente magari facciamo l'esercizio scrivete mi manchi molto vedete che parola esce andate avanti non staccate la penna queste cose però poi finisce sempre con chi piange da una parte chi dall'altra che poi partono è venuto fuori mio padre diventa una cara a chi c'ha il dramma familiare più grande e quindi perché mio padre se n'è andato mio padre mi madre tutte queste cose a me un pochino mi viene da ridere ma no per le disgrazie perché mi sembra tutto assurdo cioè mi guardo un po' dall'alto e penso non lo so i drammi del primo mondo mi sembrano una conventicola di matti che stiamo lì e allora fai diventa un po' una gara ogni tanto adesso pensano tutti sono stronza però non lo so forse è anche una protezione mia che mi viene subito l'autoironia mi guardo da fuori mi viene da ride poi io per fortuna non ce l'ho tutti questi questi drammoni come dire oppure magari se è capitata delle cose uno le ha prese in modo diverso e quindi mi sento un po' un po' fuori posto oppure mi sento la voce di mio padre che mi dice ma va a lavorare cioè non me lo dice però me lo sento io però tu te lo senti lui non t'ha mai detto non me l'ha mai detto ma io sento con quella voce e quindi uno dovrebbe fare dei corsi delle cose che io non faccio perché spesso mi viene un po' da ride e quindi sono una pera cottata questo si collega all'altra cosa che ti volevo chiedere tu adesso hai sviluppato tutta questa cosa di fare l'attrice comica cioè fare personaggi che fanno ridere in televisione questa cosa cioè l'avevi già pensata ci hai pensato voglio recitare avevi pensato una delle vie che posso prendere è quella comica i monologhi che ti scrivevi per andare a pedigree erano comici oppure poi ti sei accorta che sapevi recitare sapevi anche far ridere cioè non solo facevi riflettere ma anche facevi ridere prima di rispondere ti volevo leggere due cose che ho googlato a parte c'è una pagina wikipedia hai capito tu non mi davi dolire invece sono pure su wikipedia ma infatti io volevo fare questa domanda come si fa ad avere una pagina wikipedia guarda io ti garantisco che non è nessuno che ho pagato 2000 euro a un certo punto è uscita durante battute durante battute vedi che bello allora io mi sono inizia così la tua pagina wikipedia Emanuela Fanelli questo è uno che proprio ha studiato tantissimo per scriverla Emanuela Fanelli inizia la sua carriera a teatro in adolescenza poi fa collabora con diverse compagnie prendendo parte e ha messo in scena di tipo classico per poi tentare una strada più attuale con testi scritti da lei dopo anni di gavette in teatro e nei centri sociali romani viene notata in un locale della capitale mentre legge alcuni suoi monologhi questa è l'introduzione molto bella molto generale ma anche un po' una piccola cenerentola del nostro mondo mi piace questa lettura però questo si collega alla cosa che sta scritta questa un po' su My Movies che Ah quello mi ha scritto una cosa La Fanelli si sta ritagliando uno spazio importante posso leggere ma perché lo dici ridendo posso dire che mi potrei anche offendere già su La Fanelli ti viene da ridere no 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 vai vai leggi Allora La Fanelli si sta ritagliando uno spazio importante nel mondo dello spettacolo quale interprete di ruoli che fanno ridere il pubblico tra virgolette della serie ma poi manco troppo definibile dunque comici ruoli definibili dunque comici pur non essendo di per sé una comica non essendo né brutta né goffa anzi avendo una fisicità tutt'altro che vicina alla comicità soprattutto senza ridurre le varie parole a delle macchiette allora messaggio a My Movies ma chi cazzo ve scrive Allora guarda io quando l'ho letto un po' ero rimasta così ho capito che era un complimento sì 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 era un complimento però però già le virgolette fanno ridere no le virgolette non è comica non essendo né brutta né goffa ma chi te conosce ma che vuole questo sì ma poi non lo so un po' l'idea della comicità è arrivato il cesso a pedali non lo so sono la moglie rompicoglioni guarda che mostro sono la brutta della commedia nessun uomo mi vorrà mica so qua la figa che passa la prima che fa la protagonista ma non parla io so ruolo comico no allora io ho capito il complimento in realtà questo dà un po' modo di parlare anche dei ruoli femminili sì volendo volendo facciamo non è che a te scrivono o a Rapone che siete obiettivamente due gran bei ragazzi non è che dicono fanno ridere anche senza essere brutti no non lo scrivono non lo scrivono se lo devi sottolineare evidentemente noi tre ci fa ridere però se uno sente il bisogno di dirlo e di sottolinearlo c'è un motivo forse perché è un po' l'umorismo soprattutto femminile mi vuole dire questa cosa orribile che non esiste però diciamo le donne che fanno ridere sono sempre state considerate un po' poco appetibili e spesso anche loro hanno giocato su quello cioè spesso dei monologhi comici femminili vertono molto sul fatto che ne so sto sovrappeso non lo so mi viene da dire oh gli uomini non mi vogliono gli uomini sono tutti così e quindi vedere una che magari è carina poi non è che io Charlize Theron allora fa cortocircuito dice oddio mio questa dovrebbe puntare sul fatto di essere la più bella del mondo invece far ridere no io so carina e magari posso far ridere però già lo sottolinei questo dipende un po' dall'abitudine in realtà cioè io non ci faccio caso non credo neanche voi però forse una fetta grande di pubblico sì no infatti si fa ridere ma anche riflettere anche questa cosa di me che senta il bisogno di dire che non sei comica non essendo né brutta né goffa ma io sono contenta infatti che uno dica che non sono né brutta né goffa intanto te porti a casa e il complimento e io intanto questo e poi a tintoria dici però le donne vengono viste male e l'hai sfangata però comica quando tu dicevi la comica io in realtà se devo quando ho iniziato a scrivere delle cose mie che è successo abbastanza tardi sì perché non pensavo anche lì di poterlo fare mi è successo perché a un workshop a cui ho partecipato uno dei compiti era scrivere un monologo di Massimiliano Bruno era questo workshop sì era una siccome io quell'anno perché non era stato un grande anno mio personale non avevo fatto spettacoli a teatro perché non mandava sai quelle botte di vita che dici non voglio essere felice mai quest'anno e quindi non l'ho fatto quando è passato ho visto che c'erano dei provini per andare una settimana in Umbria a fare solo quello quindi ho fatto questo provino mi ha preso e tra i compiti c'era scrivere un monologo non comico per forza con una trama io avevo una trametta e avevo anche un po' rosicato perché io dicevo ah vabbè ma io faccio l'attrice non è che un monatrice deve sapere scrivere per forza farà una figuraccia invece in realtà è la cosa che uno mi è venuta meglio e due mi è piaciuto di più fare e era comico in realtà se devo scrivere di solito mi viene più di scrivere qualcosa di umoristico ma senza mai in realtà dire oh metto questa che è la battuta del secolo costruita benissimo no scrivo cose in realtà anche spesso come parlo io abbastanza abbastanza paracula tutta la questione e magari certe cose fanno ridere soprattutto io nella vigliaccheria non le sottolineo mai le battute perché se non dovessero ridere e puoi fare finta che erano io ho detto una cosa sai quando quella cosa è tremenda quando vedi un comico che fa tutto e gelo ecco quello mi ha sempre molto terrorizzato invece io le dico così serena senza manco fare la pausa così se ridono bene se no io ho solo detto una cosa io ho solo detto una serie di parole non mi importa che voi non abbiate riso e poi dietro piani autoflagellazione sono una cagna esatto esatto come quando la gente non ride volevo fare una domanda sul tipo di umorismo che fai tu spesso diciamo fai la parodia dei romani diciamo così della troppo del romano della romanità diciamo portata all'estremo che c'è spesso a Roma fondamentalmente fuori Roma è un po' più difficile portata a Crotone è un po' più raro però al teatro all'aperto di Siracusa qualcuno sia e tipo a battute facevi io c'ho lo spettacolo a a a a a a a e io mi ricordo tipo c'estavano i miei che tu un giorno non c'eri e dicevano ma oggi non c'era Fanelli ma forse sta a fare lo spettacolo cioè pensavano che veramente stavi facendo lo spettacolo lì tu non hai paura a volte di venire cioè tu fai questo tipo di personaggio però magari vieni fraintesa e quindi la gente ci crede veramente cioè tu questa cosa come la vedi come la vivi tipo come una cosa che ha che bello siccome cioè tipo alla Sasha Baron Cohen tipo che tu fai finta di essere una cosa che non sei la gente ci crede e quindi eh ti diverte il fatto che ci creda oppure il non venire capita ti 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 dà fastidio ma guarda allora nessuna delle due totalmente nel senso che né ridacchio perché li ho fregati anche questa volta non mi hanno capito né mi sento ferita cioè a me piacerebbe che capissero tutti però seppure uno non capisce ride comunque perché eh ci stanno due livelli no magari lui ha colto il primo e ha riso per quello alla fine va bene cioè nel senso che questa cosa pure la cosa mi chiedevi di no perché fai la comica io in realtà eh facevo l'attrice queste cose mie o i monologhi o anche quelle che non so a battute facevo la parodia del cabarettista romano ma a me in realtà faceva ridere l'idea che una dell'età mia una ragazza fosse chiamata a sostituire un cabarettista dei 54 anni quella era l'idea mi faceva ridere però queste sono cose che io un po' sempre detto ma in pizzeria o altre cose sono contenta adesso di poterle fare cioè adesso da Valerio al programma di Valerio posso fare cose che non potrei fare se stessi a caso aspettare le chiamate dei provini e quindi questo è un regalo enorme una libertà enorme però non ho mai pensato ok adesso anche comica perché va in realtà gli attori quando dico un'attrice comica no ma un'attrice in teoria dovrebbe essere anche quello nel senso che sia comico che drammatico no fa parte di tutta di tutto il pacchetto però non c'è uno studio io così machiavellico quando ho fatto a battuta il video di Milano che facevo finta di essere cabarettista a Milano e dicevo una sequela di luoghi comuni dei romani contro Milano a me faceva ridere prendere in giro il provincialismo dei romani che ogni volta che vanno a qualche parte sai quelli penso magari riconosciate pure voi che dico che sono sono stato a Tokyo c'era sto posto il Pigneto come può essere Pigneto a Tokyo invece è tutto ricondotto alla nostra città bellissima però uno diamoci pure una calmata e io prendevo in giro quello c'è gente che quindi entravo che ne so ero sticceria chiedevo i supplì quello mi diceva che non c'erano e partì la musica di Psycho perché non si fanno i supplì c'è chi ha riso perché ha capito che io prendevo in giro quel provincialismo ma c'è anche chi ha riso perché c'era Psycho e perché è vero a Milano non fanno i supplì dramma non ci rimango male va bene pure così io in realtà intendevo un'altra cosa però alla fine è riso va bene è sempre la cosa sui doppi livelli magari che poi Zalone è maestro per esempio su questa cosa ma spesso anche altri comici tipo Cuzzanti anche spesso ci gioca su quella cosa e va bene così allora questo in realtà mi fa da ponte a ben due domande che ti volevo fare però prima volevo fare un appunto su Massimiliano Bruno che io ho conosciuto non è vero ci siamo incrociate sul palco della premiazione di Fabrique du Cinéma di tanti anni fa quando Fabrique du Cinéma la rivista di cinema premiava varie persone io e Martina Catuzzi dovevamo presentare tutto quanto lo spettacolo infatti mi sto chiedendo perché dovevano dare un premio a te no 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 io presentavo tu presentavo in cambio di cospicuo miglior barbetta dell'appio latino in cambio di cospicuo denaro ehi ehi ah scusa 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 in cambio di un sacco di soldi vi lascio indovinare la cifra esatta e a un certo punto sale sul palco per premiare non mi ricordo chi come si chiama la ragazza protagonista 1992 teafalco sì o Miriam Leone Miriam Leone sì sì hai fatto come le vecchie come mi nonna come si chiama quel bel ragazzo che fa quello sceneggiato no perché ci stanno tutti i due no era Miriam Leone sale Massimiliano Bruno per presentarle un premio che le stavamo dando e mentre cioè tipo prima parla e poi mentre parlava Miriam Leone lui sta a fianco a me e mi ha appoggiato il microfono sul cazzo senza che nessuno se ne accorgesse ha fatto questa gag ha fatto una gag simpatica di appoggiarmi il microfono sul cazzo ho pensato vedi che ridere che fa una cosa solo per ridere mi ha fatto ridere mi ha anche fatto un po' riflettere sarò sincero ho anche un po' riflettuto ho detto Massimiliano comunque però non ti ha chiesto il numero no però mi ha fatto ridere ti sei sentito un po' afferito perché era un po' no look capito cioè mentre parlava non ha detto niente poi mentre parlava l'altro ha abbassato il microfono e me l'ha appoggiato sul parco vedi che gag hai visto questa te la devi giocare l'ho capita adesso è sofisticata a me ha fatto ridere che stesse tra virgolette sul palco prendendo per il culo solo me cioè nel senso che era una gag solo dedicata solo a mettermi per mettere una disagio a me io per come sono fatto io me sono tagliato e comunque però questo per dire Massimiliano Bruno Guzzanti Zalone perché stavi nel trailer the infamous trailer of Tolotolo sì hai lavorato con i più grandi Guzzanti Zalone Tommaso Fauro Giordano Folla Daniele Tinti Stefano Rapone Lillo e Greg Lillo e Greg Paola Cortellesi Paola Cortellesi e allora no voglio chiederti com'è lavorare con Guzzanti perché lui è molto bravo sentite che vi dico e volevo sapere se lavorandoci insieme cioè si percepisce che lui è una persona che sa cosa fa ridere cioè una di quelle persone che dice mo famo così dimo così famo cos'ha e effettivamente sono cose divertenti cioè se si percepisce che lui è una persona non so cioè tipo parlandoci che ha proprio una non so una sensibilità comica che lui ci minchia oppure se è semplicemente una persona che ci parli normalmente e poi il prodotto finale è un prodotto molto bello molto divertente no no tutte e due ok tutte e due allora quando ho lavorato con lui a parte il veramente il sogno della vita che non pensavo neanche di sognare nel senso io non sapevo che lui avrebbe fatto una serie poi comunque è arrivato sono arrivati ho fatto quattro provini quelle cose proprio da quando mi hanno detto che ero stata scena e a proposito di goffa quando mi è arrivato il provino per il ruolo la serie dove è Mario io interpreto il ruolo di Cinzia la descrizione era tra i 25 e i 30 anni bassa e tozza e ho vinto io e non ce n'avevo una quindi poi è anche relativo quello che uno si immagina e quando ho lavorato con lui me la stavo facendo sotto perché poi comunque recitare con uno come lui io avevo paura di sparire ma non per un discorso di ego perché proprio venivano male le scene poi il personaggio di lei era talmente forte e soprattutto lo doveva prevaricare spesso io avevo paura di stare in soggezione visto che stavo lavorando per me con Topolino non lo posso insultare però il mito che non pensi che neanche esista davvero e quindi quella era l'anzietta poi lui è una persona con me è stato splendido generoso e veramente una persona squisita che sento ancora no diavusomica decorato però ci sentiamo veramente carinissimo e anche nella vita ogni tanto non è il mattatore che stai a pranzo sarsa e fa la sceneggiata però ogni tanto non è il rapone non è il rapone ecco che bisogna di basta stebba costi aneddoti sempre stiamo già all'amaro mettiti seguito tu a buca resta che abbiamo sentito tutti venti volte no lui no però quando parla a quel modo di dire le cose per esempio una volta stavamo io lui e Valerio Aprea che salutiamo nella pausa del set e stavano parlando di non mi ricordo cosa del fatto che Corrado non fosse favorevole a convivere nelle relazioni dicendo anche perché ci sono delle cose mie che non mi va di far vedere anche alla donna che amo tipo il fatto che io parlo da solo mi ricordo Aprea gli ho detto ma come parli da solo perché parli da solo e lui ha risposto perché innanzitutto è maleducazione non rispondere e a me questa cosa mi ha ucciso e è comunque una cosa che lui ha detto così ma adesso non so se si offende che io dico però pure io ogni tanto parlo da sola mi sembra una cosa comune parlare da sola Pannelli ha chiuso questo portone con un guzzante beh io non mi chiamerà mai io pure parlo secondo me tutti a stavolo parliamo da soli per fare comicità devi parlare da solo io pure tantissimo infatti la mascherina è stata una grande svolta eh quella è una svolta io parlo da sola spesso mi faccio tipo i discorsi delle discussioni vabbè questo è grande classico quello che dovresti dire a qualcuno quando discuti che poi non corrisponde mai io non lo faccio neanche io lo faccio da solo poi alla fine quando incontro la persona faccio ciao bello come va matador a grande no io un po' ci provo poi mi incarto e vabbè però da sola sono una spada sei il numero uno sono il numero uno eh sì infatti io al supermercato adesso parlo da solo perché mascherina e via poi con le cuffie quindi magari oh la fanelli che stronza tutto il tempo ma la cosa Daniele ma perché scusa non me lo dovevi chiedere io non posso mentire sul mio podcast no no e dicendo non lo so che cose che capitano sul momento sì o discussioni oppure magari se mi viene in mente una battuta poi la provo provo a strutturarci un monologo e poi torno a casa e non me la scrivo e la dimentico e io pure rido da sola ma questo pure credo no io non rido da sola mai? non voglio metterti a disagio ma no no che mi viene in mente spesso le cose tipo che ne so sto in metro mi viene in mente tipo penso se io adesso urlo fortissimo viva la santo tipo mi vengono in mente di fare queste cose che poi non fai e rido da sola ok penso così vedi l'abbiamo fatto uscire meglio Corrado esatto quindi Corrado me la faccio io questo è da tagliare questo è da tagliare questo è da tagliare vedi perché ho smesso di fumare e quindi sto espellendo tutto il catrame rimasto ecco bravo questa è la mia teoria l'ho detto mentre ti sei acceso la sigaretta elettronica per farti sentire un po' male quelle che puzzano di scureggia quelle che puzzano di scureggia quindi se ci vedete che facciamo le facce se stai guardando il video tutto è la sigaretta elettronica solamente una volta su tre sono io diciamo il resto ecco però appunto io posso fare la gag oh questa così è sgancio nessuno se ne accorge questa fa molto ridere fa molto ridere la dico di solito ai primi appuntamenti con i ragazzi motivo per cui sono sola se senti puzza le scureggia la sigaretta elettronica ma non l'hai accesa conto per favore sono pure carico tra hai capito sta sigaretta ma scusa Emanuela ma che sigaretta questa è un sigaro elettronico Emanuela io me ne vado se no capisco no no vabbè ma ci sta io che rimango da sola ma ci sta ci sta lo dice al cameriete no ma le ho fatto una gag poi tra dieci minuti la faccio rivedere poi te la dico quindi ci sta oh senti tu hai una grande passione adesso facciamoci seri sì per Mario Magnotta Mario Magnotta come mai io tutte allora io sono cresciuto all'Aquila e quindi Mario Magnotta io sono inevitabilmente affezionato legato alla figura di Mario Magnotta che per chi non lo sapesse era un bidello se non sbaglio dell'ITIS a cui venivano fatti gli scherzi telefonici e che a cui lui risponde in modo molto divertente tutte le volte le persone fuori l'Aquila apprezzano Mario Magnotta io sono sempre felicissimo e tu non è che una volta ti ho sentito apprezzare Mario Magnotta ti ho visto fare una chiamata su zoom di lavoro con la t-shirt di Mario Magnotta con scritto la presi e la pagai la presi e la pagai e poi adesso avevi fatto una serie di stories dove alternavi foto tue a citazioni di Mario Magnotta quindi la domanda è qual è la tua frase iconica di Mario Magnotta preferita? forse la mia preferita ma mi sa che sono due una è pronto è la signora no son Magnotta ma questa mi fa tanto ridere e anche ma che me ne frega a me di mia figlia tra vent'anni si sposa mia figlia perché mi fa ridere che uno sia talmente portato all'esasperazione da disconoscere anche l'affetto che me ne frega a me di mia figlia cioè dell'amore più grande della tua vita e tu in quel momento dici una frase del genere perché sei esasperato ma io Mario Magnotta l'ho conosciuto durante i collettivi a scuola quando finivamo di dire le cose di classe c'era la cassetta botta di vecchiaia e le telefonate di Mario Magnotta soprattutto la quarta che ovviamente è quella quella è la lavatrice è lo scherzo della lavatrice e soprattutto la quarta chiamata che è quella dell'espressione ah ok ok no no quella lì che amiamo tutti e quindi per me è un po' mi fa molto ridere questa cosa mi è dispiaciuto molto perché non c'è più Mario Magnotta quando se n'è andata mi è molto dispiaciuto ma adesso l'ho messo nelle storie perché devo fare l'attrice cacona che siccome mi hanno prestato i vestiti devo fare grazie i marchi no top però siccome io quando vedo fare queste cose dagli altri veramente io non penso niente però se le faccio io penso che sono cretina non so se è perché mi sento talmente superiore o è perché non mi prendo sul serio non so qual è la strada psicologica quindi volevo fare una cosa per smorzare mi faceva ridere l'idea di mettere una storia che ho scritto mi iscrivo ai terroristi e quella dopo io grazie mille il marchio è tutta fighetta vestita fighetta però forse è sempre un po' per smontarmi e per dire gambe preoccupate che non è che sono I'm still Jenny from the block esatto de morena I'm still Fanelli from morena from morena niente sicuro non è niente di allarmante tanto questa tosse che potrebbe mai essere in questo momento se c'hai la tosse che problema c'è che potrebbe essere sono 40.000 gradi va bene allora io ho la domanda classica di tintoria adesso e poi passerei la domanda al pubblico perché ridendo e scherzando se siamo fatti 40 minuti vedi quando ci si diverte allora tintoria è il podcast che promuove la legalizzazione io c'avevo sempre la domanda fissa che ne pensi della legalizzazione della droga leggera se non che dopo un po' mi sono accorto che è una domanda formulata male e che non portava a nessuna parte quindi chiedo direttamente all'ospite il rapporto che hai o che hai avuto o che avrai con la marihuana anche in funzione della creatività chiaramente tintoria è registrato quindi se dici cose che poi mi dici no taglia che quando vendevo l'erba non voglio parlare non voglio parlare di quella storia di spaccio ve la sono lasciata alle spalle quando con un camper da Barcellona abbiamo seminato la polizia la polizia esatto no quindi qual è che rapporto io sì allora io sono stata sempre un po' anziana dentro nel senso che sai quelle cose cioè io non vedo l'ora di arrivare tipo a questa età per dire no regà ma che in discoteca siete matti sono certa in realtà già a vent'anni soffrivo queste nottatone però ci doveva andare ogni tanto allora con io mi so tipo al liceo mi piaceva tanto un ragazzo che stava proprio a rota la comitiva dei fricchettoni con la kefia quindi grandi canne quindi davanti a lui quello fa scena la prima volta che ho fatto qualche tiro però siccome ho la pressione bassa è finita con lui che mi teneva le gambe su non so partita proprio bene ho fatto qualche tiro al liceo però non sono mai stata cioè non per esempio non ho mai comprata non le ho mai fatte però appunto senza problemi non è che sto a dire cose da da suora laica però in realtà è andato così si è capitato ogni tanto con gli amici qualche tiro così ma mi fanno venire molto sonno quindi se per esempio dopo devo guidare evito però così relax con la creatività non ci ho mai provato non ci ho mai provato non ho mai provato che so mi faccio una canna e poi scrivo un monologo perché in realtà sono una di quelle che c'è un po' l'ansia del controllo anche su me stessa per esempio a parte qualche tiro di canna non ho mai provato altre droghe ma essenzialmente perché non voglio perdere mai totalmente il controllo e anche perché ho paura di morire quindi e anche altre magari se mi hanno invitato a delle feste sai in cui sai che c'è quella cosa non ci vado perché tra l'altro ho pure l'ansia che sono convinta che se un giorno vado fanno la retata ai carabinieri rimango solo io e con tutta la droga della festa con tutta la droga arrestata per spaccio internazionale esatto sono convinta di questa cosa e quindi non ho il resto neanche zero ma essenzialmente perché ho paura di morire io che o di essere arrestata arrestata e cose varie però nella vita qualche titolo aveva interpretato la tossica in non essere cattivo bello sforzo metodo Stanislavski per l'attrice sì con i miei disperati capito ma quindi ti sei drogata tutti questi anni no no ero lì guarda che io sono andata a bere una coca cola io che sto a regina cieli storia bibbia stanno le donne che poi la tossica non solo in non essere cattivo ma anche in viaggio se non ricordo male come no parodia di non essere cattivo non essere cattivo è stato il primo provino della mia vita per il cinema pensa tu veramente un po' cenerento anche lì cercavano una bassa no soprattutto mi è stato mandato il provino il ruolo perché forse questo voi non lo sapete cioè il mio esordio è il cinema la prima volta che ho visto il mio nome al cinema è stato vicino al ruolo che era prima smandrappata e io sfido chiunque ad avere un esordio stupendo non la seconda non la terza number one esiste solo che poi smandrappata fuori da Roma come lo spiega no non esiste è quasi onomatopeico sì bravissima e non c'è parola che la può sostituire perché non è che puoi dire no 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 è smandrappata una smandrappata donna di facili costumi no perché smandrappata perché non è solo quello è pure un po' scaciona donnaccia è pure un po' di degrado morale però più che fisico però c'è anche un po' smandrappata che però c'è sta c'è un suo perché c'è un suo smandrappata potrebbe essere la traduzione in italiano di fleabag guarda un po' un po' sarebbe bello se fleabag sarebbe smandrappata sarebbe bellissimo il remake in italiano smandrappata smandrappata invece fleabag esatto la smandrappata un po' lei comunque c'è sta dentro cioè nel senso è una smandrappata però c'è sta dentro sì non è proprio una rovinata no 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 la smandrappata c'è sta dentro anzi da uomo ma te dico una bella smandrappata si dice pure la devi merita pure esatto può essere anche una meta sentimentale certo certo quindi questo sì ho fatto la drogata ma in realtà sono una vecchia d'animo va bene però non giudico i ragazzi mi ne fanno uso e secondo me si può parlare con qualcuno l'importante è che non diventi una dipendenza ecco questo l'ho fatto per l'agenzia tipo 60 diciamo no alla cultura dello sballo secondo me io posso dire io dico sì alla cultura dello sballo per esempio com'era quella pubblicità il vero sballo è dire no il vero sballo è dire no ecco fun fact il vero sballo è dire sì detto questo invito tutti i ragazzi le ragazze all'ascolto soprattutto se minorenni a non drogarsi di aspettare ad essere adulti per eventualmente fare le loro esperienze e poi farlo sempre con persone che già l'hanno fatto stare attenti stare attenti e non fare cazzate però secondo me invece la cultura dello sballo è una cultura che chi vuole intraprendere è una cultura interessante da fare con giudizio questo l'ho detto perché è il mio podcast per pararti pure per pararmi col pusher che mi regala la droga in cambio di mentoria io non posso oh t'ho sentito che dicevi che lo sballo è dire no se siamo parlati già l'altra volta c'hai ragione frate mo ti chiedo scusa perché io parlo napoletano con i pusher scusami frate mo ricordo anche una tua gag a battute che è stata bene sottolineata quella del ah dello spacciatore col post sì sì credo me l'abbia scritta rapone esatto perché lui non si azzarda però manda avanti l'artri eh sì 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 esatto quando fa queste cose scomode pure sta cosa di dire che la cultura dello sballo secondo me è interessante ma ha detto lui di dirlo perché poi proprio lui dice il vero sballo no perché poi il pubblico di tintoria poi scende se tu dici cose contro la droga quindi devi dire non lo so guarda in realtà mi sono smontato da solo il po' allora no in realtà come disse Berlusconi questo è quello che capita quando c'è troppo amore quando distrusse il mi sono un appassionato di citazioni di Berlusconi vai vai quando distrusse il da Bush il Leggio sì perché c'era troppo amore posso dire che Silvio Berlusconi io oramai è il mio mito cioè che lui sia sopravvissuto pure al covid cioè io non riesco a pensare a un essere umano nella mia esistenza più grande di Silvio Berlusconi e lo dico da persona che cioè nel senso non l'ha mai neanche votato anzi pure per educazione l'ho sempre odiato però cioè a questo punto io mi sono arreso cioè lui è veramente più forte del bene e del male cioè è sopravvissuto a retate di politici a magistrati a mafiosi sono andati in galera persone legate a cosa nostra e Silvio Berlusconi ha 80 e rotti anni è sopravvissuto al covid è stupendo il suo discorso mi hanno detto che avevo pure la carica infettiva più potente di tutte Silvio che non molla un cazzo è sempre lui è sempre lui e anche il vanto di avere la carica virale tra le cinque cariche virali più potenti del San Raffaele perché lui non gliela fa è sempre così forse c'è un premio anzi che forse non ha detto c'era pure l'infermiera mezza figa quello mi ha un po' preoccupato perché forse col covid persino Silvio ha dovuto per un attimo oppure cose tipo il covid vabbè meno male che non prende no le parti quella me la aspetto un po' invece forse la vecchiaia vedi adesso sopravvive al covid però smette di fare battute su sfondo sessuale non smetterà mai non smetterà mai è la sua spina dorsale è il suo marchio di fabbrica esatto la fica è il suo medollo spinale esatto lo tiene lo tiene vivo esattamente va bene allora adesso io passerei alle domande al pubblico stavo vedendo la pagina wikipedia di emanuela ma che hanno scritto che te farino no più che altro ho cliccato sulla pagina battute e c'è tutta una lista dei componenti di battute e chi non c'è è l'unica con la con la con la pagina sei tu e c'è un valere lundini però in rosso che comunque c'è un suo programma e però ci clicchi dice pagina ancora non esistente questo che vorrà dire questo che vorrà dire la gente tra l'altro mi stavo per dimenticare aspetta dove si vedono io vi ho trascinato capite sono stata chiamata a forte della mia celebrità per darvi un po' di lustro grazie mille noi siamo come la luna viviamo di luce riflessa di te che sei il nostro sole esatto tu soprattutto stai spesso vicino a me voi due poi mamma mia veramente se ci avessero sentito certi momenti le risate che se siamo fatti a microfoni che poi il momento più bello è dietro le quinte guarda una famiglia una famiglia no mi stavo dimenticando che questo lo possiamo dire perché già l'abbiamo detto tu sarai anche nel programma di Edoardo Ferrario sì è vero come è stato lavorare col maestro Ferrario bellissimo anche lì una famiglia bellissimo perché mi piace molto Edoardo che ci puoi dire ci puoi dare delle anticipazioni ti piace sta domanda bruttissima ci puoi dare delle anticipazioni credo di sì nel senso che ieri è uscito già il video ieri sera mi sa abbiamo fatto insieme la parodia oddio no ho paura di essere denunciata comunque facciamo una parodia una parodia in cui io e lui siamo due youtuber che si rivolgono a dei bambini che si chiamano gli uno più una sono molto frizzanti e si occupano di slime e di altre cose cercano di venderle e poi riveleranno diciamo un lato privato molto lontano da questo cartoon che rappresentano vediamo l'ora di vederlo su Rai Play a breve su Rai Play a breve io ho fatto anche un'altra facevo delle televendite quella sì posso dire una ragazza che fa le televendite di app abbastanza singolari della Rai ah ah sì sì ho pure visto qualcosa non possiamo dire o non diciamolo sì 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 l'ho visto faceva molto ridere comunque Edoardo Ferrario sarà anche prossimo ospite di Tintoria quindi parlerà anche lui parlerà anche lui Edoardo Ferrario mi piace molto e tra l'altro è uno adesso non perché ci state voi però lo sapete voi mi piacete i vostri spettacoli mi piaccio anche se a parte privatamente proprio come artisti mi piace mi piace il vostro modo di far ridere che è molto diverso tra voi però mi piace perché spesso non lo so nella stand up vedo un po' certe situazioni in cui qualcuno prova a scimmiottare qualcosa che funziona oltreoceano che si sente che non è onesto non è simile a sé invece voi due no e Edoardo è un altro di quelli che secondo me ha proprio un suo linguaggio e fa la stand up a modo suo che somiglia a lui e col suo umorismo che io apprezzo molto bene quindi sono stato molto contenta di lavorare con lui dai e noi saremo contenti di vedere il programma fatemi sapere vedermi scena poi arriva un whatsapp ammazza che schifo tutto bello ma te ti sei buttata via per sto programma non sei né brutta né goffa ma che ti è capitato allora questa domanda io adesso ho deciso che citerò i nomi delle persone Tommy secondo ti chiede pezzo preferito da suonare col basso faccina che sorride oh hai capito ma c'è anche questo aspetto che non era su wikipedia ma non è su wikipedia ma manca nella vita nel senso che lo strimpello il basso mio padre lo suona lo aggiungo io su wikipedia strimpella il basso e back to black di Amy Winehouse ah vedi mi piace molto il giro di basso è abbastanza semplice per quello mi piace però me la sento calda che suona un gran pezzo e aspetta sto cercando le cose perché io dovrei selezionare prima le domande però tu hai detto tanto via fanelli che mi frega a me che mi frega no 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 eccola allora qui c'è una ragazza che si chiama Bradipo Beso sì che ti chiede se ti senti un pochettino sexy allora questa è mia sorella una cretina e me lo sto chiedendo perché lei è il mio migliore amico che si chiama Davide che salutiamo che salutiamo da Access forse avrai anche una domanda del cavolo di questo perché non vedono l'ora che io faccia una cosa del genere ecco una volta mi hanno preso il telefono una volta stavano a casa mia io stavo fuori a cena però loro dormivano da me quindi l'ho lasciata a casa da sola col computer di cui mia sorella sa la password è successo il putiferio hanno cominciato a mettere tipo like alle pagine micetti di Torpignattara scrivendo che picciuli cose così oppure io presentavo una serata con i cocomeri al posto del seno il delirio proprio oppure te lo regalo se me lo viene a prendere tutti i commenti per cui mi stavano anche per bannare e sempre in quella sera hanno preso anche il mio telefono quando sono tornata e hanno scritto a mia madre mamma ma secondo te sono un pochettino sexy dal mio telefono e tua madre cosa ha risposto? credo se non sbaglio faccette che ridono questa è una cosa molto triste faccette che ridono e sì perché c'è una tristezza una madre che ha una figlia adulta si ritrova a doverle dire sì ma come mai mi chiedi questo ma poi che ti dice pure sì che dice forse ci sarà una serata no quindi questo è il motivo per questo va bene e poi invece un'altra persona ci chiede ciao Manuela ti dicono mai che ricordi Carlo Ancelotti ti adoro ma chi è Dax lo sapevo lo sapevo lo sapevo ecco queste sono persone che frequento io evito di fare non questa è una cosa tua sai quando durante la pandemia noi facciamo la diretta quella è un incubo perché mi scrivo arrivano tutti in blocco si scrivono nelle chat oh c'è stai Manuela da quest'ora a quest'ora andiamo con della roba tremenda che viene scritta sotto quindi beh è stupendo allora poi uno commenta alla fine te l'hanno levato Ervino si quello anche video un po' era un trailer di battute di uno spettacolo mio inesistente che si chiamava Levate Mervino e faccio questo trailer per i castelli romani per tornare alla domanda tua molte persone mi hanno chiesto quando va in scena quando va in scena oh poi qua attenzione perché qualcuno chiede quando esce il tuo film a piedi scarsi non vedo l'ora di vederlo però come fa a chiedere questa cosa non è allora no perché nel programma io mi sono presentata una puntata ho fatto vedere la locandina e ho detto che è in uscita stanno per uscire dei video miei di questo film che invece uscirà più avanti che uscirà più avanti cioè che non era questa o Venezia ma immagino l'anno prossimo guarda secondo me ma forse anche Cannes guarda non lo so comunque si stanno per uscire sono tre clip e ha fatto una possiamo dirlo dai su è una parodia degli speciali cinematografici quindi ci sono io che parlo con un giornalista che mi intervista e spiego questo bel progetto che si chiama a piedi scarsi ed è un film ambientato in periferia romana e ci sono tre guest star splendide che non dico no non le diciamo i nomi però molto molto bello a breve mi sa la prossima settimana forse martedì incrociamo le dita merda 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 poi ci chiedono fai molte cose cinema come di teatro monologhi ne preferisci una? no sempre il stesso lavoro sempre il stesso lavoro sempre il stesso lavoro dipende sempre dove mi diverto di più in questo momento durante il lockdown penso ognuno di noi ha fatto dell'autoanalisi senza averne tra l'altro strumenti nella solitudine sicoterapeuti presso noi stessi stavo proprio pensando al fatto che io facendo l'attrice spesso aspettavi la chiamata i provini così però magari rispetto a fare un film al cinema in cui interpreto un ruolo che non mi fa impazzire ma dall'alto di nulla è proprio dentro di me per gusto mio preferisco più fare a piedi scarsi i monologhi a femmini i voci di donna gli annunci queste cose qua sono più contenta magari non c'ho l'allure dell'attrice cinematografica a me quella non mi interessa in realtà mi piace tutto basta che sia qualcosa che mi somiglia che mi rende contenta poi alla radio lo faccio con Lillo e Greg che sono tra i miei preferiti magari se facessi un'altra cosa alla radio che non mi somiglia non mi piacerebbe la radio ma il problema non è il mezzo è quello che faccio però in realtà il lavoro è sempre quello ok e questo si collega a un'altra domanda che è se la faresti tipo un'americanata nel mondo ipotetico cioè nel senso se tu potessi fare qualsiasi americanata serie tv o film che può essere un film di supereroi oppure una serie tv che può essere non lo so qual è una serie tv che è adesso cioè la faresti se sì quale cioè non per forza però per assurdo qual è una cosa che ti piacerebbe fare proprio una cosa la più pop possibile americana allora l'americanata più proprio se devo sparare sì che tanto è una cosa che non farei mai perché non so proprio adattare esatto però vorrei provare a fare le cose tipo dei supereroi fare la supereroina sì che poi ti fanno tutte quelle cose con gli stunt le capriole c'hai i superpoteri fighissime a ste donne quello sì se proprio devo scegliere l'americanata la cosa più lontana da me tra l'altro non sono manco grande fan del genere io che superpotere vorresti avere in questo in questa americanata ah nell'americanata sì allora facciamo prima nell'americanata e poi nella vita esatto così siamo un po' vogue esatto vogue chiede questo mamma mia stanno messi malissimo fare le stesse domande di dittoria capito ma ti rendi conto come se siamo ridotti stanno al capolinea non lo so forse nell'americanata qualcosa di molto fisico tipo che ne so spostare le cose qualcosa che è molto scenografico sicuramente ma tipo io supereroina dei trasloghi ma che cos'è sposti una scatola ma no ma io mi pensavo meglio sai oppure cose col fuoco non lo so volare cose così e nella vita vera pure sposta le cose Emanuele basta che usi la mano come hai fatto io che scoprite che non ho mai toccato niente no nella vita vera forse andare indietro avanti nel tempo è un casino ma come ti porresti però mezzo dramma mezzo tanta curiosità come ti porresti nei confronti dei paradossi temporali alla ritorno al futuro cioè che se ne preoccupano però poi in realtà ci mettono una pezza senza rispettare il continuum oppure in un universo in cui effettivamente se la te del passato ti vede poi c'è un cortocircuito esatto quello è il dramma magari io mi vedo nel futuro vedo una situazione che proprio è la vuoi cambiare poi cambiando quella cambia tutto cambia tutto eh mi interessa tutta questa cosa quindi più per più il presente per cambiare il futuro non il passato oppure farei le botte proprio da eroina vera senza dirlo a nessuno che torno indietro nel tempo e cambio delle cose drammatiche storiche però non pensi che possa avere delle conseguenze nefaste comunque sarebbe in mano una persona che poi non ha quel bagaglio culturale adatto a farla questa cosa quindi per sé sì quindi sarei curiosa di sapere quali sono queste drammatiche cose che vorresti cambiare che uno pensa tipo l'holocausto no no è che una volta all'elementare un ragazzino non sai che mi ha combinato e vallava così ed è la pizza oggi a scuola non ce l'hai e oppure io un giorno starò in televisione ma che me frega ma che vuol dire un minuto di sette anni che per sbaglio tipo ti ha pestato il laccio della scarpa facendo dello slacciare e tu non te le sapevi allacciare gli emeni vai là ma poi che viene fuori questa immagine mia tipo un livore un rancore infinito no oppure mi piacerebbe pure sempre che fa implicazioni pesanti essere invisibile però poi lì senti le cose che dicono magari su di te quello pure pesantino e se non andiamo sul classico per citare il liceo del nostro Tinti volare proprio forse è quello volare non è male però allora posso fare il cagazzo per volare è pure il mio io sogno spesso di volare però se voli quanto in alto puoi andare prima che c'hai freddo e muori di freddo perché sai superman vola però se te vai in cielo fa freddino ti devi portare la giacchetta pesante una bella sciarpa il north face pensa che bello volare a altezza uomo perché non mandava di camminare tutto qua che passi vicino qua che comunque stai sul marciapiede e sei vecchio e camminano piano sempre dietro sempre comunque devi fare anche la velocità uguale con quella dell'uomo cioè passo d'uomo il freddo non ci avevo pensato io ho sto problema con volare ti metti una sciarpa ti metti una felpetta bel golfino della Piquic quindi tu pure volare io volare e invece te io voglio diventare fortissimo fortissimo a Mario Kart ma sai che quando tu vivi più tranquillo sei fortissimo cioè tipo se spacchi tutto perché puoi venire a lavorare nella mia cosa di spostare le cose ditta trasloghi esatto io faccio il gesto io prendo le cose esatto beh puoi fare il traslogatore puoi menare eh io per quello tu vorresti menare io vorrei menare la gente vabbè allora potessi io perché sono debole ma fortissimo di super forza o fortissimo tipo che sai un'arte marziale talmente bene non super forza può essere proprio greve sì 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 per citare uno dei video quelli che fanno rire le interviste fatte a un telegiornale a uno credo o marchigiano o abruzzese comunque dell'appennino diceva comunque qua è pieno di criminali sta pieno di criminali io però se mi beccavano a me io gli menavo a tutti e tre perché questi criminali non possono fare niente fa lei è maestro di arti marziali no io me ne basta ecco e questo dovrebbe però io meno e basta credo sia il sogno menare e basta perché può Bud Spencer pensa la tranquillità dove in giro nessuno ti rompe le parole perché è una cosa che si vede anche da fuori è ancora meglio perché Mari ti sottovaluta e tu dici ah ti faccio vedere io mi facevi la smutandata ma che quartiere è? che mi rubavi la mela che dovevo regalare alla maestra a parte Stefano c'hai 40 anni quale maestra sta lontano a che schifo no secondo me comunque se meni e basta poi si vede cioè i malviventi lo percepiscono come i cani con la lacrima tatuata adesso esatto che fa più paura dei muscoli esatto e poi lui prova a giustificare no ma era un omaggio alla mia canzone preferita una lacrima sul viso non ho mai ucciso nessuno figurate io sono un carnevale mi sono vestito da Pierrot un omaggio alla clownerie diciamo da dove sono nato da dove vengo io tu vieni dal teatro io vengo dalla strada e la clownerie la giocoleria esatto te ci vedo un sacco poi va bene allora siamo arrivati secondo me verso la fine del podcast nel senso che nel momento in cui proprio abbiamo stancato lo senti no però più o meno io su un'ora mi regolo ok però tu adesso che sei arrivata alla fine del podcast hai a tua disposizione il microfono più ambito d'italia che è quello che è davanti per dire quello che ti pare è il premio per chi arriva alla fine di tintoria se vuoi lanciare un messaggio un appello vuoi insultare qualcuno vuoi pubblicizzare qualcosa vuoi stare in silenzio vuoi fare una riflessione un in bocca al lupo alle maestre che sono tornate a scuola io intanto vado a prendere un pennarello con cui dovrai se vorrai firmare il non so se chiamarlo poster però questa struttura questa è bellissima perché io sono venuta però questa cosa del microfono a disposizione è la cosa più ansiogena di tutto ah vabbè allora puoi pure parlare con Rapone Stefano potete continuare a parlare no perché poi sono le cose perché invece tintoria è bellissima perché ho pensato tanto vado a fare una ghiacchiera non c'è la cosa io ho sempre l'ansia tipo me le vivo tipo che mi chiedono l'unità d'italia no così che comunque è 1861 la so e questa è e Roma però quando è stata annessa questo non mi ricordo io dico è 70 ma vedi lo sapevate voi io no è quella botta d'ignoranza perché siamo romani però adesso mi può apprendere la cosa tipo no devo chiudere in simpatia beh dico quella del prate da monaca ma veramente no ma chiacchiero con Rapone il mio sogno è parlare con Rapone senza essere goffa essi te stessa brutta vabbè forse si vede non si parla Rapone no io devo parlare no parla tu comunque allora grazie grazie per avermi invitato sono stata benissimo seguite una pezza di Lundini il programma Edoardo Ferrari e Show e che l'hai fatti tutti i programmi comunque hai fatto questo si c'è un po' ma l'avrai rotto pure no no anzi io sto molto nel clima che penso un po' all'atteggiamento di questi pensano io so pure una comica non è vero perché gliel'ho intortata mezza volta adesso lo scopriranno tutti e quindi io mi aspetto di ah ma allora non sei capace io farò avete ragione scusate torno ma non è per farmi dire ma sei forte quando dici quelle cose con quella faccia me fai morire la gente non può che ride ecco vabbè comunque grazie ragazzi stava benissimo grazie a te che sei venuta qua e viva Tintoria devi firmare in diretta e te lo dico c'è questa challenge ok cioè se non vuoi no no cercio però se intanto vuoi dire il brand che ti ha dato il vestito per venire a Tintoria immagino immagino che Valentino abbia abbia spinto abbiamo saputo che vai a Tintoria sì esatto Armani ah ecco infatti come diciamo noi a Roma Armani Comio ovvio eppure Versa c'è un altro litro Versa c'è un altro litro e ce ne sono altri oggi è il 15 1609 2020 questo pazzo pazzo 2020 che non passa più che però alla fine ci ha portato molte soddisfazioni sì a chi non lo so diciamo diciamo ci ha portato molte soddisfazioni la soddisfazione più bella in questo momento è essere riuscito a portare Emanuele Afanelli a Tintoria e insomma lì c'è un parterre di firme che vedrai che insomma sei in ottima compagnia a parte devo dire cosa sto scrivendo se se vuoi se vuoi sì perché è proprio per te allora no poi me lo leggo io no non è così privato qua candidamente tua Emanuele Afanelli tra l'altro e insomma eccoci eccoci qua ho firmato bene grazie avevo anche sbagliato lettera beh ancora meglio è stato candidamente candidamente perché ho fatto un esatto invece no bello 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 molto bello comunque mi piace che su Tintoria il poster Tintoria si presti ai giochi di parole certo va bene grazie mille Emanuele grazie mille grazie a voi grazie 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 anche a Stefano che era la sua seconda prova mi dici come è andato io voglio il feedback su come ti sei sentita con Stefano coconduttore guarda è un debole per Stefano sì un debole mio privato sì benissimo il programma ha acquistato questo podcast ha acquistato qualcosa da quando c'è lui quindi da Francesco Lancia in poi esatto meno male vabbè vediamo vediamo comunque le audizioni sono aperte se volete partecipare come coconduttori a Tintoria potete scrivermi una mail dovete essere disponibili no ragazze riconoscenti no come Daniele ha cambiato improvvisamente ma che stai dicendo no no va bene per ora ci teniamo ci teniamo rapone poi vedremo comunque grazie mille Manuela grazie mille Stefano e viva Tintoria e viva Tintoria grazie mille a tutte grazie mille a tutte ci vediamo nella prossima puntata ciao ciao ciao